Tre corner consecutivi al terzo tentativo, l'Inter fa centro con Cordoba, proprio lui primo gol nel campionato italiano, un momento davvero cruciale dell'annata. Sorondo, posizione di Orlandoni, poi Cordoba in acrobazione. Radica nell'ultimo quarto del match il Piacenza, riprova, ricoba e fa centro, sesta rete per lui in campionato. Inter è di nuovo in vantaggio, polemico Orlandoni, che forse temeva la conclusione alla sua destra, difetta nel posizionamento. E poi punizione, Ronaldo, palla in ruota. Gol che chiude il match, esulta Ronaldo, sette reti per lui in nuova presenza in questo campionato, quattro gol nelle ultime tre partite, arriva anche Colbo da lontano.